Benvenuti e bentornati all'ascolto dei miei audio su Temptation Island 2021. Nel corso della seconda puntata è stato veramente devastante anche l'esito, diciamo, del rapporto tra Sté e Claudia. A Sté, infatti, vengono mostrati dei video in cui la sua futura moglie confessa di non provare più lo stesso desiderio nei suoi confronti. Avverte un blocco tutte le volte che lui si avvicina e, comprendendo i motivi che lo portano ad avvicinarsi, lei si irrigidisce immediatamente. Afferma di avere l'ansia e, considerando che ha 26 anni, non si vuole sentire come una di 70. Ormai dice che è più di un anno che si sente spenta. A queste parole, chiaramente Sté capisce che non ci sono le condizioni per poter convogliare a nozze come era stato già fissato per il 7 d'agosto. Quello che trovo io veramente assurdo è il comportamento di lei, perché se lei aveva già questi dubbi e, più che dubbi, queste certezze da oltre un anno, per quale motivo ha voluto portare Sté a vivere questa esperienza, solo per renderlo ridicolo davanti a tutti o forse perché lei non sapeva in quale altro modo poterglielo comunicare. Mi sembra che come comportamento sia un comportamento per avere 26 anni da una bambinetta molto immatura, incapace di affrontare i veri problemi di una coppia, perché alla fine dobbiamo anche rendersi conto che la fase che precede il matrimonio, ovvero il fidanzamento, è un periodo in cui uno dovrà e deve verificare se veramente l'amore che può unire il compagno alla compagna e viceversa può essere un amore che giustamente possa portare alle nozze, ma non è detto. Uno si può conoscere nell'arco di questo tempo e rendersi conto di non essere assolutamente innamorato o più innamorato o comunque di riconoscere nel partner delle caratteristiche che non corrispondono alle proprie. Non c'è niente di male. Io sono dell'idea che sarebbe stata molto più matura se avesse dimostrato il suo stato d'animo a te invece di coinvolgerlo in questa ridicolezza, in questa avventura così ridicola per entrambi. Vi ringrazio dell'ascolto. Esprimete pure la vostra opinione tramite commenti. Lasciate un like se trovate il contenuto interessante e come sempre vi invito per chi non l'avesse ancora fatto a iscriversi al canale per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle ultime news.